Il Tribunale di Reggio Calabria, venito in Camera di Consiglio, è composto da esiboli magistrati il dottore Giuseppe Rappagna, presidente, il dottore Elena Lupino, giudice, il dottore Marco Saran, giudice, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile scritto al numero 2662 e l'anno 2015 Registro Generale Affari Contenziosi riservato in decisione all'udienza camerale nel 30 ottobre 2015, promosso da Marino Giovanni, Marino Giovanni, Laganà Emanuela Stefania, Tivoli Clementina, Medi Antonio, rappresentanti e difesi tutti dall'Avvocato Marino Maurizio Conturieri, giusta procedura a margine del ricorso, questo in cui studio di Medo.Salvo nel Giocalabria, vi approva numero 7, hanno eletto l'omicidio nei confronti di Medudi Giuseppe Salvatore, nella qualità di sindaco di Medo.Salvo, rappresentato difeso pulitamente e distintamente dagli avvocati Giovanni Rosumano e Carlo Moragio, giusta procedura in calcio alla coppia notifica del ricorso, elettivamente ovicidato il legio da l'acchia e l'avessore in gran gruppo di Gini. L'eletto il ricorso depositato il 7 agosto 2015 con il quale Marino Giovanni, Laganà Emanuela Stefania, Marino Giovanni, Tivoli Clementina e Medi Antonio hanno chiesto che venga accertata la sussistenza di una causa di limitabilità del sindaco del comune di Medo.Salvo, Giuseppe Salvatore Meduri e conseguentemente venga pronunciata la sua credenza della suddetta carica. L'eletto la comparsa di risposta depositata nell'interesse di Meduri Giuseppe Salvatore, sindaco del comune di Medo.Salvo, con la quale è stata recepita in via preliminare l'inamissibilità e l'improgettibilità del ricorso nonché la sua impondatenza nel merito. Esaminati gli atti e l'ascendimento della riserva formulata dell'udienza canelare del 38 ottobre 2015. Osserva, va disattesa in via preliminare l'eccezione di nullità della progettura conferita dal Meduri ai propri difensori sollevata dai ricordenti sull'assunto che tale mandato alle litti sarebbe stato rilasciato dall'odierno Presidente e la sua qualità di sindaco. E infatti dall'esame dell'atto difensivo predisposto dal Meduri e dal temore della Procura conferita ai due difensori in caccia alla propria modificata del ricorso emerge chiaramente, al di là della suggestiva prospettazione offerta dai ricordenti, che l'odierno Presidente abbia rilasciato un mandato difensivo ai predenti legali, non già quale legale rappresentante del comune di Medo.Salvo, bensì quale persona fisica privata, non assumendo alcuna rilevanza decisiva la circostanza che nella comparsa di risposta viene indicato l'inciso nell'interesse del sindaco, laddove tale indicazione, al di là della suggestiva interpretazione offerta dai ricordenti, serve soltanto ad identificare la carica del soggetto conferente e rappresentato. A riprova di quanto appena detto, nell'atto viene riportato il codice fiscale della persona fisica Meduri Giuseppe Salvatore e non già quello del comune di Medido.Salvo. D'altra parte, a smettire la desi attoria, basta osservare che in giudizio non sia costituito il comune di Medido.Salvo, in persona del suo sindaco predempore Meduri Giuseppe Salvatore, né tantomeno può seriamente desumersi che il Meduri abbia inteso resistere nel presente giudizio in rappresentanza dell'amministrazione comunale che, dunque, non riserva la posizione di legittimata passiva. Nel merito il ricorso è infontato e non può, pertanto, trovare accoglimento per le causali qui di servito esplicitate. Va premesso che il diritto di elettorato passivo è un diritto soggettivo perfetto, riconosciuto nella nostra Costituzione al Taticolo 51, che così recita. Tutti i cittadini, dall'uno o dall'altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici e alle lari elettive in condizioni di eguaglianza. Secondo, i requisiti stabiliti dalla legge. Nell'ambito del potere di fissazione dei requisiti di elegibilità dell'articolo 51, riserva solamente al registratore, esistono delle cause ostative all'esercizio del diritto che trovano espressa disciplina nel nostro ordinamento giuridico e che riguardano tutti i livelli istituzionali in cui è prevista una carica di di colettivo. Proprio il principio di cui è l'articolo 51 svolge cuoco di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri del tenibio e l'attività. E si parla dell'ex articolo 2 delle Costituzioni. L'autodisponenza costituzionale ha peraltro più volte tutelato il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi di un diritto che, secondo intrangibile del suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali che possono limitarlo soltanto a fine di realizzare altri interessi costituzionali, altrettanto fondamentali e generali, senza poi discriminazioni sostanziali tra cittadini e cittadini, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. Appare pertanto attresivi davanti che, secondo un altro principio sancito dalla Corte Costituzionale, l'elegibilità e la regola è l'inelegibilità e l'eccezione. Questo vuol dire che le norme che devono al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. È evidente dunque che la previsione di casi di inelegibilità non può che essere tassativa, non comportando per sua natura alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsiasi voglia, organo o autorità. In questa ottica va dunque eletta, con interpretazione costituzionalmente orientata, la cosiddetta legge Severino emanata con il chiaro obiettivo di abbattere il livello di corruzione della politica italiana. Riguarda candidati e membri del Parlamento italiano, di quello europeo e del governo e dell'istituzione dei locali e prevede tre tipi di proverimenti, la sospensione, la pregadenza e l'incandidabilità. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, di cui interessa, il testo normativo sanzisce per l'appunto il candidabilità alle elezioni politiche per coloro che hanno riportato condanne definitive con una serie di reati specificatamente indicati, ovvero per pene combinate superiore ai limiti previsti. Ebbene, per scoprire subito il campo da possibili equidici interpretativi, in ordine alla portata ai limiti dell'attività che è chiamata a svolgere questo organo giudicante, vale la pena evidenziare che questo progenimento non costituisce un ulteriore grado di giudizio o una vendice straordinaria del processo penale già celebratosi, dove sarebbe possibile rivisitare le valutazioni operate in serie penale e diversamente interpretate i fatti contrastanti al medui, sui quali si è invece formato un giudicato che piaccia o non piaccia, ha acclarato la sua responsabilità penale nei precisi termini sovrariportati. Il compito del collegio è quello quindi non certo di fare un nuovo processo ai menuri, ma piuttosto quello di verificare se la fattispecie delincuose per le quali sindaco in merito portosalvo è stato condannato. Intervino o meno alcune delle ipotesi tassative previste dal reggisferino. D'altra parte, non spetta giardamente a questo ordine giudicare, esprimere giudizi di valore di natura morale e etica in ordine all'opportunità di candidare al sindaco di un comune già sciolto per indistrazioni mafiose e che ha già registrato l'adrestro di ben due primi cittadini, nonché un provvedimento orientato dall'abilità di gran parte dei componenti dell'ultimo Consiglio Comunale per continuità mafiose. Un soggetto che abbia riportato una contanna penale definitiva potrebbe anche ritenersi opportuno, ma ciò varrebbe non solo ovviamente per vedo portosalvo, ma come criterio di carattere più generale, tenuto conto, senza andare da portano, dei numerosissimi comuni sciolti per indistrazioni mafiose nel solo territorio vecino e degli altrettanti numerosi provvedimenti emanati da questo tribunale con cui è stata dichiarata l'incandidabilità di numerosi amministratori e rappresentanti locali. Che sia dichiarato l'incandidabile, l'aspirante candidato alla carica elettiva che, sottoposto ad uno screening da parte di un orgo all'interno del partito o del movimento politico appositamente istituito, pur possedendo requisiti soggettivi e richiesti dalla legge per proporre la propria candidatura, diventa più ulteriori o più stringimenti requisiti soggettivi previsti da regolamenti interni al movimento e ai partiti politici, meglio conosciuto come i codici etici. Trattasi di requisiti che interessano anche la sfera morale e sociale dell'aspirante candidato, che però devono essere valutati con il metro della vera opportunità. Si sarebbe in presenza non c'è più una, ma nuova incapacità politica speciale, voluta dall'administratore, ma di una forma domestica di incapacità politica la cui disponibilità rientra nelle prenotative e nelle scelte di un'associazione non riconosciuta poi sono in partito politico e i movimenti politici. In pratica il partito politico, ritenendosi titolare disinfatta, prelocativa e in forza di regolamento interno, si assumerebbe la responsabilità, almeno per le proprie liste elettorali, di non candidare un aspirante candidato alla carica elettiva per motivazioni proprie, comunque anche per quelle strane e quelle estremamente statuite dalla legge. Obbene, questo nuovo ed aggiuntivo filtro inserito nei partiti o dai movimenti politici rischia però di infrangersi nelle norme dell'ordine della Costituzione e sui principi che la Corte Costituzionale ha stancito in materia di elettorato passivo sovranunciati. In definitiva, una cosa è infermare che la candidatura del menuri può apparire inopportuna secondo una valutazione rispezionale non consentita dalla legge e che dunque non compete al giudice. Cosa di resta è invece sottoporre a verificare la legittimità e la sussistenza dei requisiti soggettivi secondo la previsione legislativa. Si pari bene, non si tratta di un'opzione interpretativa miope e ipocrita. Abusa al contesto sociale in cui attualmente si opera, ma di una scelta emeneutica o privata, cui è chiamata l'autolività giudiziaria nella verifica del rispetto della Vorgas Regis, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata. Tanto premesso, soffermandosi sulla vicenda processuale di cui occupa, va detto che i ricorrenti denunciano la sussistenza di una causa di candidabilità, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo sovracitato, sul presupposto che il menuri è stato condannato in più definitiva la pena di un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, con sanzione accessoria della conquista del beni ex articolo 11 del decreto legislativo 3692, perviato di quell'articolo 185 del decreto legge 3692, aggravato dagli articoli 112, numeri 1 e 2 del codice penale e dell'articolo 7 della lettre 575 del 65. Assumono in particolare che la condanna riportata dal menuri violerebbe il discorso dell'articolo 10, numero 1, nelle diverse ipotesi contemplate dalle lettere B, D e E. Ebbene, ritiene il consiglio che l'assunto di parte riguardante si rivela viva di pregio giuridico. Per come in res positiva vengono esaminate separatamente le censure che integrarebbero le tre diverse tipologie di violazione denunciate. L'articolo 10,1 lettera B prende innanzitutto sottolineare che l'attuale sindaco di Mendo Portosalvo è stato condannato per il reato di quell'articolo 12 qui in questo decreto legislativo 306,92, ma non aggravato dall'articolo 7, legge numero 203,91. Non posso sottoggersi che in tale circostanza aggravante, sebbene sia stata inizialmente contestata dall'ufficio di procura valoriale non resistente, è stata successivamente esclusa dallo stesso ordore in cui l'intenziale di richiesta di invio a giudizio. Nello aggiungersi che in tale alle relazioni di parte resistente emerge niente più che il soggetto avvantaggiato dell'intestazione dittizia, tale guarnaggio a Giovanni, è stato assolto dal reato associativo per non aver commesso il fatto, è che il tale lugerato e il pastiano è stato assolto dal reato a semplice di giudizio e pregato in quanto estraneo alle compagnie associative della povera. In altri tempi non vi è dubbio che il reato per il quale il menù è stato condannato non è contemplato tra le tante specie criminose rilevanti e fine dell'applicazione della posiddetta legge Severino. Adesso specificante che non soltanto l'articolo 12 qui in quest'anno rientra tra i reati a cui va riferimento l'articolo 51,3 bis del codice di procedura penale. Ma vi è più, non figura tale dall'ipotesi del poste d'assertivamente indicato all'articolo 10,1 della legge 235-2012. Condivisibili appaiono comunque sul punto le difese elettriche svolte da minuti, alla pagina 10 e 11 della propria comparsa di risposta. Non è infatti assolutamente convincente e persuasiva la ricostruzione giuridica prospettata dagli istanti secondo cui il ricorso nel reato di intestazione di picchia ex articolo 12 di questo decreto legge del 106-92 poiché finalizzato all'eluzione di misure di prevenzione costituisca una qualche specie criminosa che per costruzione agevola l'associazione mafiosa. In buona sostanza ciò che il premio evidenziare è che l'inciso contenuto dell'articolo 51,3 bis del codice di procedura penale al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416 bis è perfettamente sovrapponibile sul piano letterale e funzionale o ridisposto dall'articolo 7 legge di 291 nella parte relativa all'aggravante ideologica ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Di tal che se ne deve concludere che non possono configurarsi nell'ambito della citata disposizione dell'articolo 51,3 bis del codice di procedura penale condotte agevolatrici al di fuori di quelle aggravate senza l'articolo 7 dichiarato. Articolo 10,1 lettera D. Non riporre certamente nemmeno l'ipotesi contemplata dalla lettera D che riproduce la situazione rappresentata dalla circostanza gravante di cui è l'articolo 61 numero 9 l'attore appare sufficientemente soltanto rilevare in linea peraltro con la tesi sostenuta nelle conclusioni rassegnate dalla presentante dell'ufficio del pubblico ministero all'udienza del 30 ottobre 2015 che l'accuso della qualità di incaricato di pubblico servizio che per l'appunto integra la predetta circostanza gravante non è stata né contestata dall'accusa né acclarata dal collegio giudicante. D'altra parte gioca a rimancare che la semplice lettura del capo di imputazione evidenzia che la fattispecie criminosa è stata constatata al Meduri non già quale ingegnere o direttore tecnico bensì quale legale rappresentante della società povero. Dita che non è il dato comprendere le regioni della contestata asserita predetta violazione laddove non è stata la qualifica professionale posseduta da Meduri a determinare la sua condanna. Per il resto vanno anche in cui condivise le argomentazioni squisitamente tecniche supportate dalla giurisprudenza di legittimità utilizzate dal resistente per realizzare l'assunto vattoreo. Del tutto distinta, del tutto destituita di fondamento giuridico si rivela poi la censura che falleva sulla presente violazione contemplata dalla previsione normativa in esame. Laddove appare utile evidenziare che per stessa missione di parte ricorrente il Meduri non è stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione personale perché iniziato di appartenere la distinzione di cui l'articolo 4,1 è tra A e B della legge numero 159 del 2011. Così come invece richiesto la legge Severino, sicché paresemente fuori di ante, sia appresa che il richiamo alla misura patrimoniale della conquista riportata del residente nel processo penale sopra più volte menzionato utilizzato dai ricorrenti nonostante che il pedetto di misura patrimoniale non è risultata completa dalla disciplina sull'animabilità, ma soprattutto perché trattasi di misure aventi natura e finalità del tutto differenti e perciò non assimilabili a fine che più interessano. Rimangono assorbite tutte le altre eccezioni e questioni proposte. Le spese del presente giudizio, secondo la sua commenza, vanno poste al carico di parte di corrente e liquidate come da dispositivo. Per questi motivi ricette il riposto per le causali di cui imparte emotiva. Condanna i ricorrenti Mario Giovanni, Dallana e Manuela Stefania, Mario Giovanni, Diovo di Clementina e Nel Antonio, in salvo attualmente nel favore di Medudio Giuseppe Salvatore delle spese processuali del presente giudizio che è liquida in complessivi 2.500 euro oltre IVA e l'imposto per il pettaio come per legge. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. ho ascoltato in questi consigli comunali da sei mesi ad oggi dire alla minoranza che dobbiamo lavorare per il bene del paese consentitemi di dirlo come si può far rinascere la fiducia di un paese più comune che pensa di essere vegnamente rappresentato in questo consiglio comunale se poi, al momento in cui una difficoltosa situazione si risolve decidono di alzarsi e di andarsene per chi è rispettoso questo atteggiamento? per nessuno dei presenti? e sicuramente non per il nostro sindaco che tutti ci rappresentano noi abbiamo subito sei mesi di commenti di giudizi, di parole che secondo noi sono stati espressi in maniera troppo facile oggi, che siamo qui con un elemento in più qualcuno sostiene che è un elemento personale ma un ricorso ad un sindaco ad una persona ma che in questo momento è il sindaco del nostro comune e quindi è una successiva ordinanza può essere forse un fatto personale o è un fatto di tutto il comune e come è stato portato in questa aula? tutto il discorso tutto il ricorso fatto al sindaco oggi forse non era di interesse l'ordinanza è messa dai giudici credo invece che questo sia un giorno particolare anzi il giorno dell'ordinanza è stato un giorno importante e lo è perché è dichiarato sicuramente questa sentenza che i cittadini di merito saranno degnamente rappresentati per altri quattro anni e mezzo da un sindaco e da un'amministrazione comunale è stato molto difficile e a tratti anche sconfortante dover fare i conti con chi per sei ultimi mesi ha pensato bene che la cosa più importante e più utile per il paese fosse puntare il dito contro chi era stato democraticamente eletto dal popolo forse è stato troppo facile per alcuni cavalcare l'ombra delle malvincenze e del pregiudizio questi stessi più volte hanno pensato di potersi sostituire al corretto operatore giudice condannato con parole e frasi offensive il nostro primo cittadino e se in quest'aula qualcuno che sedeva nei macchini della minoranza che oggi è andato via ha chiesto più volte le dimissioni del sindaco e ci ha definiti incapaci come maggioranza oggi avrebbe voluto rimanere seduto lì e chiedere bene ma come chiesi in un consiglio comunale precedente oggi lo richiedo a chi è servito tutto questo? è servito al paese? al comune? ai cittadini di merito? per che cosa? per finire nuovamente sui giornali? per che merito è questo? non credo la maggioranza beniamente rappresentata dai consiglieri e dagli assessori è rimasto al canto il sindaco lungo questi mesi perché abbiamo creduto in lui e condivise il progetto che insieme abbiamo creato forse oggi qualcuno è deluso forse qualcuno oggi ancora non riesce ad accettare la fine di una passata politica e a prendere altro che il sindaco di merito e che oggi rappresenta il nostro comune non è un mafioso la maggioranza che oggi amministra questo paese non andrà a casa rimane compatta accanto al proprio sindaco perché è in grado di capire e accettare che all'interno del nostro paese ci sono molteplici credenze politiche però bisogna accettare con tutti che una governa e le altre dovrebbero coagulare per la ripresa economica e sociale del paese e invece ancora una volta si cerca di creare un po' di confusione nella mente dei nostri concittadini chiaramente la sentenza si esprime senza alcuna riserva a favore di Giuseppe Menuri giuridicamente e legalmente viene ripristinato l'ordine e a questo punto non si può che parlare di una questione morale a qualcuno fa comodo così il sindaco non è un mafioso ma qualcuno lo ha a vita di immoralità sostenendo che avrebbe voluto avere il buon senso di non candidarsi alle passate elezioni per il nuovo renozio comunale ma questo qualcuno lo valuta in base ai propri interessi personali è il proprio modo di pensare mi piace ricordare un pensiero Francesco Almeroni in un articolo del Corriere della Sera ha affermato se uno fa quello che ci serve e la pensa come noi diciamo che è buono e bravo se invece fa il contrario siamo capaci di dire di lui cose streggevoli ma c'è un altro significato della parola morale su cui dovremmo essere tutti d'accordo ci sono coloro che fanno promesse progetti danno garanzie per ottenere quello che desiderano in quel momento in base all'utile immediato e personale non pensano minimamente al bene comune restituiscono solo mezzoglie e di danni ecco per noi tutti queste persone sono senza morale poi ci sono delle persone che quando prendono un impegno a costo di rimetterci anche personalmente insomma e tranquillità lo mantengono e quando stabiliscono il rapporto con gli altri dicono con chiarezza che cosa possono fare e che cosa non possono fare e anche se quel compito è gravoso e diventa difficile ogni giorno di più lo portano a compimento con coraggio e a testa alta questo tipo di persone non si difende con la menzogna e non porta l'inganno inizia una competizione ma lo fa lealmente per noi tutti questo è indice di rigore morale consentitemi di dire che questo rigore morale sei mesi fa cinque mesi fa quattro tre e oggi noi lo abbiamo riconosciuto a Giuseppe Meduri fin dal momento in cui lo abbiamo affiancato nella squadra di merito nel cuore e che oggi con più forza e con la stessa coerenza di sempre gli riconosciamo e ci riconosciamo quindi continueremo ad amministrare allo stesso modo con trasparenza e lealtà e vorrei dire al consigliere Mignidi che non c'è ma vedrà la registrazione senza interessi personali prendendoci cura della cosa pubblica come se fosse casa nostra con la stessa attenzione e la stessa voglia di montare al massimo e al meglio questa sarebbe stata un'ottima occasione non per alzarsi e andare seria ma per fare l'esame di coscienza chiedere scusa e lasciare lavorare perché i conti li faremo tra quattro anni e mezzo grazie ci sono altri interventi guardate io voglio iniziare il mio intervento da dove ero partito il 27 di agosto là nei giorni in cui il consigliere Mignidi prima ha citato alcuni passi di quel consiglio sebbene lui ha posto una questione di giudiziaria che rientra anche nelle sue facoltà di consigliere sebbene lui abbia anche abbandonato prematuramente l'aula consigliere e anche queste agli altri gruppi della minoranza rientrano nelle loro facoltà però noi maggioranza di questo comune voi cittadini non possiamo essere offese nelle nostre intelligenze siccome con la scusa della questione di giudiziaria sollevata da Mignidi non passata perché grazie a Dio la democrazia si regge sul principio della maggioranza che deve governare abbiamo assistito ancora una volta l'ennesima mancanza di stile questo perché io quel giorno del 27 agosto mi ricordo in un intervento dove sono stato anche sottoposto a interrogazioni da parte di alcuni consiglieri di minoranza mi veniva chiesto in quella sede se sapessi della condanna del sindaco e come ho fatto a candidati io tranquillamente in quella sede ho risposto di sapere della condanna di sapere che quella condanna non era postativa alla sua candidabilità li ho invitati a esultare in questi dei miniviaria e scambio di evitare i giudizi sommali e di aspettare serramenti la decisione del giudice ma così non è stato oggi che cosa ascoltiamo invece ascoltiamo che questa sentenza è una sentenza di carattere veramente personale e privatistico guardare appunto c'è un limite e anche a questo si deve un limite è da sei mesi che giustamente o strumentalmente le opposizioni per la loro parte altri settori di interesse altri centri di interesse hanno quotidianamente parentato adombrato denigrato delegittimato diffamato denigrato un'altra volta l'intera maggioranza e la persona valete bene la persona nel suo essere del rettuale signore mi dovrebbero dire entrambi le minoranze prima di entrare nel merito e di dare chiarezza di quella che è stata la votazione del collegio giudicante perché badate bene c'è stata una lettura poco prima del tutto confiante che non ci rende contenza di ciò che è stato perché è soltanto stato letto un passo e uno straccio di quella sentenza a consumo e a gusto di un'interpretazione che non regge e non può essere poi accettata nei fatti vediamo prima di entrare nel merito dei passaggi che interessa sapere come cittadini di quello che è accaduto in questi senesi mi dovrebbero spiegare tra i gruppi consigliari di minoranza che dicono di essere all'unisono ma che di fatto parlano due voci totalmente differenti il tutto è dimostrato dal fatto che mentre il ricoprente della lista candidato al sindaco l'ingegnere Marino pone un'eccezione preliminare nel ricorso fatto nei confronti di Beppe Meduri sindaco cittadino adducendo che la costituzione e il giudizio del primo cittadino dovrebbe essere respinte quindi non accolta e quindi estromessa perché ha agito non nella qualità di privato cittadino ma in quanto Meduri immagina la sindaco oggi leggiamo nel passaggio che il consigliere di minoranza Mignetti dice che questa è una questione prettamente privata e personale quindi quindi da di qualcuna i dubbi dovrebbero capire se il sindaco è una cosa privata e personale non si capisce come è stata sollevata con l'eccezione via preliminare per quanto riguarda la regola delle costituzioni e entriamo nel merito abbiamo avuto una sentenza che ha fatto chiarezza ha ridato legittimità all'intero consiglio ha rafforzato la persona del sindaco Giuseppe Meduri e di questo caro sindaco ve lo dico tranquillamente devi ringraziare la tua minoranza una minoranza poco accorta poco avveduta politicamente mia perché oggi questa sentenza ti rafforza in tappa leali perché oltre a rilegittimarti non dà più a loro la possibilità di vivere o di allumare proprie escusezioni pertanto oggi il sindaco esce rafforzato esce rafforzato la sua maggioranza e esce rafforzato l'intero paese perché l'intero paese non è stato una linea nel momento dell'espressione del cuore perché gli ha votato questa maggioranza l'ha fatto scienza e con scienza e i partiti di giudice ci dice che ha votato una persona perfettamente in linea con quelli che erano identitati i normativi riguardanti la candidabilità la stessa ora è stata paventata l'incarca d'abilità sul presupposto di una condanna ma più che una condanna di un procedimento che ha avuto le sue origini nel 95 e che si è concluso poi nel 2006 cosa accade? io ci darei se il comandante comandante il maresciallo dei carabinieri si potrebbe avvicinare gentilmente? se potrebbe seguire questo passaggio gentilmente? prima nell'intervento il nostro sindaco stiamo cercando di fare un po' di chiedenza nel medio di quello che è stata la risultanza processuale quindi la verità processuale prima nell'intervento mi sono permesso di chiedere la sua attenzione perché è la prima volta che la vedo in queste aure consigliate e il nostro sindaco prima nel suo intervento che in questo momento va compreso va compreso al livello più generale perché in questo momento ci sono i sentimenti c'è la passione c'è la sofferenza che emerge oggi e nel momento in cui lui il sindaco dice avrei fatto tutto col senno di voi io lo conosco ciò più volte parlato in privato e questo passaggio voglio che anche lei spero di farglielo comprendere il sindaco non dice avrei fatto tutto e quindi accetto o li avrei dà condannare il sindaco vuol dire questo in quel passaggio io ho posto in essere delle contorbe in assoluta buona fede ho posto in essere delle contorbe senza partecipare ad alcun tipo di disegno criminoso disegno criminoso che poi è stato anche qui hanno stato chiarito dei giudici perché questo procedimento nel quale il nostro sindaco è riportato la mondana è un procedimento che inizialmente nasce con una matrice che era quella di un procedimento di mafia per le atti di tipo mafioso e quindi era il procedimento della DTA nel demore del procedimento questo procedimento stesso viene che era obbligato il davanti specchio di reale a un procedimento ordinario alla fine di queste risultanze processuali e vince chiaramente che cosa che oltre che il nostro sindaco non ha mai partecipato attivamente a livello di disegno criminoso nella costituente società dell'etero ma è stata fatta chiarezza che anche loro che erano i responsabili di quella società alla vita della risultanza processuale non sono state condannate nemmeno loro per mai quindi il sindaco quando dice avrei rifatto o rifarei non dice come vanto rifarei o vorrei in essere quelle azioni e quelle avutotte che mi portano ad avere una condanna ma vorrei spiegare soltanto che lui era del tutto esere al di fuori di tutto ciò che poi lui nel remore e nel momento in cui rappresentava come amministratore di quella società tutto ciò che gli accra ne ho costruito pensato prima di lui ecco perché lui si sente di dire io vi farei tutto perché effettivamente così poi come emerge chiaramente lui non partece da né da né inizio a nessun tipo di disegno criminoso né è un collaboratore della realizzazione ma lui ha solo soltanto un ruolo sulla scotta di un titolo di una qualità che lui già aveva di per sé come professionista soltanto per questa era l'attenzione per la quale io ho richiesto la sua attenzione perché magari arrivando in contesti nuovi molte volte noi ne facciamo una roba abbiamo un modo anche nostro un linguaggio proprio anche nostro della nostra vita che molte volte non ci fa realmente dire o far capire quello che noi iniziamo soltanto questo è il piccolo inciso le chiedo scusa e la ringrazio voglio andare avanti allora diciamo che cosa noi dobbiamo ringraziare non a differenza di quello che abbiamo ascoltato vedete oggi è un momento particolare l'undici di Giacomo ha segnato un momento particolare noi siamo anche proveniamo da una cultura da una cultura relativamente cattolica e cristiana siamo in un momento particolare ce ne abbiamo più riprese che l'anno della misericordia dobbiamo tendere la mano non possiamo e non dobbiamo mettere o alimentare il rancore dobbiamo dare rispetto e noi lo facciamo perché per noi ogni essere è titolare di rispetto e questa è l'ignoranza i consiglieri hanno tutto il rispetto mio personale chiaro è che alla luce di queste risultanze da questo momento per quanto riguarda il sottoscritto e credo di poterlo estendere del ragionamento anche per quanto riguarda gli altri consiglieri devono devono riavere o rimeditare la nostra considerazione perché quello che è la neurologica è un esempio di cattiva democrazia rappresentativa le partite si giocano e il giocatore sta nel campo abbandonare un campo non è un segno di sportività in quel caso in caso istituzionale non è una rappresentanza di quello che è il nostro mandato per quanto riguarda la sentenza siccome è stata spiegata ma chiaramente non è stata spiegata è stato riportato soltanto un passaggio dove viene riportata la discrezionalità da un punto di vista etico e morale il tribunale protegge giudicante che cosa dice allora a 360 di tutte quelle che sono state le memoria difensive portare avanti delle nostre accordi che ringraziamo preliminarmente avendo ricettato l'eccezione preliminare circa la regolare della Costituzione il giudice stesso il collegio dice i ricorrenti hanno del tutto rappresentato un'ipotesi veramente suggestiva anche i giudici a un certo punto dicono ma questi ricorrenti stanno creando all'elio fiambesco tutta una situazione che non sta né in cielo né in terra e che la smonta appunto per il punto non vi è dubbio che oltre alla legittimazione della Costituzione veniva a postenessere la benedetta legge serenita qui leggiamo il passaggio di Luciani in quest'ottica va dunque leccata con l'interpretazione costituzionalmente orientata alla cosiddetta legge Severino emanata con il chiaro obiettivo di abbattere il livello di produzione della politica italiana che riguarda le candidati a tempi del Parlamento ebbene per sconderare subito il campo da possibili crivoci interpretativi in ordine alla portata e limite dell'attività che è chiamata a scorgere questo giudicante ma la benedetta e le denziate per questo procedimento non costituisce un punto di un grado di giudizio quindi il collegio giudicante dice che la mera discrezionalità da un punto di vista etico o volante che sia non è competenza di questo grado di giudizio ma si poteva rappresentare un'esigenza poteva essere rappresentata una necessità soltanto mandone delle regole restrittive ulteriori rispetto a quelli che sono i dettagli normativi vigenti nel nostro ordinamento perché noi viviamo in uno stato di diritto e dobbiamo fare quanto soltanto alla legge dice se un partito adotta dei regolamenti ulteriormente stringenti può anche prevedere alcune tipologie più stringenti per quanto riguarda la vendita di un singolo giudicante siccome l'articolo 51 della nostra carta costituziale disciplina l'ipotesi della fatica dell'abilità e siccome le ipotesi dell'incalte dell'abilità secondo quanto ho visto dalla legge se del non sono soltanto delle ipotesi rigide da sentire e personali nel senso che se tu hai una di quelle condizioni ti viene applicata la legge se tu non hai una di quelle condizioni di patenza non ci può essere interpretazione alcuna non ci può essere spazio ad un altro tipo di valutazione ulteriore quello è e quindi il percorso si manifesta sin dall'inizio infondato sia in un fatto sia in diritto perché nel diritto nel diritto secondo giurisprudenza e passazione postante che cosa si dice? si andiamo a concludere perché giustamente i dieci minuti perché stanno scorrendo però cerchiamo di fare un sfondo per ripristinare soltanto la verità che la verità giuridica è inersa l'11 settembre l'11 dicembre noi dobbiamo dire un'altra cosa anche che quando siamo vicini al nostro sindaco siamo vicini alla famiglia del sindaco perché non è vero caro comandante che questo è un fatto privato lei deve pensare e deve crederci in questi sei mesi tutto il paese che non ha accettato le risultanze regolari e democratiche del paese maggio aspettava malamente ai noi che saltasse il cosiddetto il fantomatico tavolo perché purtroppo io qui adesso un pochettino mi ero a Cristo perché vorrei affrontare dei consiglieri di minoranza in una logica in una delettica trasparente e sana perché anche loro devono comprendere che noi viviamo un momento storico particolare merito molto salvo dopo un ventennio di varie vicissitudini rappresenta e presenta per la prima volta con tutti i limiti e le correzioni del caso un'amministrazione che è un'amministrazione che ha di cuore che non appartiene che non è portatrice di interessi di sorta ma questo non può essere un fattore negativo deve essere un guido in più dove anche la minoranza deve capire che partecipa in un momento eccezionale per il paese ma abbandonando il confronto e assumendo dei vuoli delle maschere che gli fanno perdere anche loro l'intelligenza il palos l'energia positiva dall'area al paese hanno sbagliato completamente la loro missione quindi io vorrei dire tante altre cose ma non è possibile perché non c'è l'interruttore ma questo è lo sarà l'oggetto di discussione ulteriore io vorrei ancora aggiungere qualche altra cosa ma il presidente è un pochettino mi sta a marcare e ha ragione però mi siamo sentiti un ultimo passaggio l'amministrazione comunale è l'amministrazione di tutto il paese l'amministrazione comunale deve avere come pietra miliare del proprio agire del suo percorso il rispetto delle re l'amministrazione comunale e il suo sindaco devono avere cura dell'interesse pubblico noi ci siamo candidati per questo continueremo a farlo lo faremo chiedendo la collaborazione di tutti e mi siamo sentiti perché questo è un momento forte che io veramente ha detto lo voglio esternare perché sono sicuro che è un messaggio che avvertono tutti e un sentimento che avvertono tutti i miei compagni di scuola questo ultimo passaggio io lo faccio al sindaco a sua mamma e a suo papà che sono qui in aula ai suoi bimbi alla moglie agli affetti più cari perché caro comandante al dire di quello che è stato appena detto sa quanto bambino è stato portato tantissimo è un bambino soprattutto una bambina che ha a casa dieci anni o a dolce si sente dire prima in consiglio poi per le strane poi negli ordini di informazione che il papà è mafioso che il papà è criminale che il papà ha dei parenti che hanno avuto dei problemi allora e io chiedo serenamente questo vorrei anche essere corretto e aiutato però anche i nostri consiglieri di minoranza vorrei dire questo è stato montato un caso nazionale anche un'interrogazione parlamentare sulla variante della dei nostri sindaco ma io comandante le chiedo se il tuo franello in Spagna penalmente io sono responsabile non credo come i parenti è una delle poche cose che l'essere non può scegliere nella vita scegliamo la moglie scegliamo gli amici scegliamo tutto ciò che il problema i parenti ce li dà il padre e il creatore e noi li rispettiamo così qua che il parente sbaglia non condividiamo sicuramente il parente ma può essere lo grado di un parente a delegittimare un'intera famiglia ma questo vale vale nel caso di spese per il sindaco per la sua famiglia vale negli amietti di lavoro vale dappertutto io vorrei rivolgere i nostri consiglieri di garanzia che non ci sono adottando questo meglio per questo ragionamento vorrei dire se è vero che una persona che ha un parente che ha sbagliato non è degno di candidarsi se questo è il loro parato io ti voglio spiegare i consiglieri che qui dentro che qui dentro a partire da altri di loro non poteva essere candidato nessuno se adottiamo questo nessuno perché come il sindaco magari ha avuto qualche parente che ha avuto qualche vicissitudine c'è un po' di consigliere che ha avuto qualche parente che la cosa pubblica l'ha gestita tra l'anno la gestita in quel momento in cui è stato certificato dagli ordini non dagli organi di Stato dalle verità processuali che hanno devastato un paese allora se lo stesso ragionamento lo dobbiamo estendere anche gli altri dobbiamo dire a questi consiglieri tu che è un parente amministratore portato al fallimento non potresti siedere in questi tanti a questa traslazione naturale non la si può fare bisogna portare il rispetto ma il rispetto non lo portiamo non lo pretendiamo il rispetto continuerà a portarlo la mia amministrazione continuerà a portarlo però la considerazione per il politico consigliere non è più scontana dovranno ribadagnarsi dagli occhi nostri agli occhi dei cittadini e agli occhi di tutti io concludo con un abbraccio reale e che non sia soltanto un gesto simbolico al sindaco che è un abbraccio sentito che lo esterno per conto di tutta la maggioranza è un abbraccio che deve riguardare lui la famiglia per le sofferenze che ha subito e con l'ospito che il futuro ci possa realmente vedere vincente in una logica e in una cooperazione per il benessere comuni grazie bravo grazie barro è stato proprio un po' più difficile da un altro gruppo io voglio partire facendo vedere la foto del nostro primo comizio a tre è questa dove Mabino e Bruni e Mimini giocarono si spingevano per lavorare tutti assieme per il buone comune la mettiamo da parte poi lo voglio lavorare a tutti i presenti tutti quelli che aprono di vedere questo messaggio e a tre lezioni di una grande non trovarsi mai davanti a un figlio e chiedo al papà quello che mio figlio ha chiesto a me mio figlio dopo un articolo di giornale mi ha chiesto papà di fare una grande sofferenza di fare con la tranquilla è stata una grande sofferenza una sofferenza che ancora porto a me che le parole non mancano mai neanche la risposta la provo facilmente che sono un vulcano quella volta mi mancata la risposta papà tu mai hai avuto non è che a fare con la tranquilla questo è quello della riflessione che voglio lanciare ai consiglieri che sono scappati in questa aula c'è un ricorso c'è una sentenza ci potrà essere l'appello io ve lo anticipo abbiamo detto che siamo nell'inamino della misericordia del terpono quando salutato l'appogato Rosumano l'appogato Volace che ritornò l'appogato Volace ci siamo lasciati con una stretta di mano e con un impegno anzi una certezza da parte degli avvocati sindaco e degli avvenuti per quello che hai subito per il fango che hanno scavalentato a livello nazionale e internazionale sulla tua famiglia sulla tua persona sulla cittadina che ti ho i danni che potresti richiedere da qua a cinque anni da quando ti hai subiti sono deboli io c'è un danno economico ma quello non mi spaventa come non mi ha mai spaventato lavorare solo che hai cari alinei come li hanno i miei genitori di cui sono orgoglioso e vero come sono orgoglioso della mia maggioranza di tutta la mia famiglia di tutti e di tanti i miei amici che mi stanno vicino mi sono stati sempre vicini che ringrazio io a minniti candidato al sindaco alla consigliera e a via mi ho preferito scappare perché forse non perché temevano i cori da stare quelli che non ci sono stati semmai c'è stata un'emozione e una gioia che io ho visto in tutti quelli che mi sono stati vicini ma vicini ma significa che mi è stata la corsa la rincorsa di Patrizia per abbracciare e io a minniti voglio ricordare quell'interpellanza che mi è stata fatta quel sospetto quella cultura del sospetto o meglio come dice i miti quella cultura dragichistica così vuole accoppare invece io parlo di cultura del sospetto aspetto da loro quella risposta e mi richiamo al ricorso del CREA cittadino svizzero sì sempre là perché la lingua batte dove il tenterone cittadino della Svizzera che viene a fare un ricorso gli muore il padre viene per tre giorni guarda caso residente iscritto a laurea live del comune di San Lorenzo non conosce il Meduri se non per una foto sul giornale propone il ricorso la nini di la Iaria dice vorremmo capire pure noi perché il CREA ha ritirato il ricorso quasi quasi il Meduri l'ha minacciato così questo è quello che voleva dire anche se non ha detto la consigliera Iaria forse avremmo capito stasera una risposta il perché hanno fatto quell'interpellanza sui nomi dei letturisti perché volevano far emergere che il Meduri sindaco avesse indicato per i letturisti un nominativo di un nipote questo gli era stato detto Meduri un nipote anche quando lo poteva fare per cose più stupide o parere di quale la gratificazione della nomina nella commissione elettorale come sfruttatore perché soggettivo e insindacabile non ha mai pensato a un nipote eppure ne ha tanti ma ha pensato solo al bisogno della gente comune il nipi e che ci indica come i detti come portatori interessi personali io voglio iniziare due cosenti che mi porto con i miei cinque minuti dice apri prova di quanto era detto nell'atto viene riportato il codice fiscale del Meduri io ho imposto a assumere la difesa in questa vicenda titolo personale lo avrei potuto fare nelle doppie veste e magari sgravare quella parte una parte delle spese non ho inteso niente dovarle anche se ci dovesse essere l'appello di un altro passaggio dice l'inelegibilità e la regola l'inelegibilità le eccezioni il marino si appella al suo ricorso però stranamente e non capisco il perché dice anche se vengo a un ricorso non per non è così di un questo mi è stato detto io confronto il tre allora andiamo all'altro passaggio io potrei essere candidato per la legge Severino e dice il giudice in tettomica la valutazione con un'interazione costituzionalmente orientata alla cosiddetta legge Severino emanata come un chiaro obiettivo di abbattere il livello di evoluzione della politica italiana Meduri non rientra nella legge Severino poi c'è un passaggio due passaggi entrambi significativi ebbene per scomperare subito il campo da possibili equilici interpretativi perché durante il dibattito io ho notato stato detto e i giudici stato chiedendo uno sforzo interpretativo legico senza fermarci al solo casellario giudiziario del Meduri guardiamo come nasce la sentenza da dove ha origine e ci ritorniamo perché se così facciamo possiamo e chiediamo che ci siano le possibilità per andare un pochino oltre il dettaglio normativo bene questo è stato detto io mi ero sempre dichiarato ma non perché temevo ve l'avevo detto non sarei stato un foglio e un pazzo a trascinare non una ma l'intera cittadinanza di merito in una situazione da cui già così è difficile uscire figuriamoci se ci sarà una ci dovesse essere una nuova commissione straordinaria con l'impegno di tutti noi e non è cosa da poco la passione i sacrifici di tutti nessun escluso di tutti i presenti non certamente di quella minoranza che collaborazione non dà anche se ripieste in più casi non c'è la collaborazione a base alterna come dicono loro loro non l'hanno mai data a questo punto forse noi non la ricorreremo più non ci serve questa collaborazione perché piaccia o non piaccia siamo in grado siamo capaci di andare avanti da soli i numeri e i fatti parlano gli interventi di riparazione di acqua sono 390 domanda poi c'è l'altra parte che non è la verità è la verità perché la legge è da lontano oggi in un social merito vecchio totalmente a buro vergogna di merito lo vedete domani per questo io mi sono permesso di chiedere una relazione anche ai carabinieri perché ai vigili glielo posso pure ordinare questa relazione non è vero che il merito vecchio è a buro così come non è vero che il paese è più sporco così come è vero che noi a oggi abbiamo fatto 382 minniti mi aggiorna le schede di riparazione con le nostre forze e sono due con la vita esterna ve li faccio i conti piaccio o non piaccio alla femminina viaggiamo verso le 400 mila euro in 7 mesi di risparmio sulla manutenzione ordinaria questi sono i numeri guardate consiglieri di minoranza che mi vedete e mi ascoltate perché forse lo farete da qua a pochi minuti quanto ci è costato l'ultimo intervento alla villa comunale a noi li sta mettendo nel cuore è costato qualche chino di benzina a qualche assessore è in piacere la soddisfazione di consumare con gli operai il caffè o la colazione agli operai un grazie per quello che stanno facendo per la prima volta al medico e lo facciamo e lo diciamo perché l'abbiamo praticato così come l'abbiamo detto perché gli impegni che prendiamo li portiamo a termine abbiamo detto tutti assieme corallente che l'indirizzo è quello chi lavora mangia e chi non lavora non mangia bene noi non abbiamo dato e siamo sotto natale l'integrazione oraria dal primo all'ultimo nominativo per la prima volta più nominativi non sono passati dal vaglio dal doppio vaglio politico e e amministrativo perché sono i funzionali che propongono alla parte politica l'integrazione bene dice qualcuno è giusto siamo sotto natale perché quel nominativo fuori l'avresti dovuto stimolare mentre ho la prova io faccio il contrario se siamo cinque che lavoriamo e tre non lavorano l'integrazione ha tutte e otto i cinque che lavorano si devono si interrano ma anche se previ l'altro io perché mi devo sacrificare perché magari non torno a casa a mangiare e mi accontento di un panino questo lo stanno facendo parecchi degli operai non è utile e a quelli che hanno dimostrato di volere assieme a noi di sollevare merito sarà riconosciuto e già stato riconosciuto un giusto prego fermo restando che la promozione o la bocciatura è a tempo questo è quello che stiamo facendo noi e ha dato fastidio e sta dando fastidio quando riprendo e concludo con la sentenza dice non posso tracersi che tale circostanza gravante sebbene sia stata inizialmente contestata dall'unfino di procura all'odierno resistente è stata successivamente esclusa dallo stesso ordine inquirente in sede di richiesta di rinviare giudizio quindi come nasce la sentenza dei nuovi nasce da un'indagine di media immediatamente derubricata dal PM PM della sentenza degli anni 90 quindi deve aggiungersi che dalle allegazioni di parte resistente emerge di più che il soggetto appartaggiato dell'intestazione dittizia tale guardaccia Giovanni è stato assolto dal reato associativo per non aver commesso il fatto e che il coercutato tale nocera seccastiano è stato assolto dal reato a seguito di giudizio appreviato in quanto estraneo alla compagina associativa a poco in altri termini in altri termini non mi è dubbio che il reato per il quale il menù è stato condannato non è contemplato tra le quanti specie criminose rilevanti ai fini dell'applicazione della legge Severino ma questo lo dicevano già nel riporso io concludo concludo invitandovi perché adesso è stata fatta chiarezza pubblicherò non l'ho fatto prima per una questione di rispetto verso tutti quanti pubblicherò l'atto di citazione pubblicherò le difese dei miei avvocati vi ringrazio pubblicamente pubblicherò le contro deduzioni e abbiamo già pubblicato la sentenza io concludo con quello che mi ha detto l'avvocato Morace dice io le faccio una proposta riapriamo il processo lei verrà assolto a che serve spendere soldi non l'ho fatto avverete bene avrei potuto fare lo dicono tutti e questa è la vera regogna la riabilitazione quindi perché si è montato un caso nazionale e internazionale sul nulla perché si è andati dall'Avieni signori so chi è andato dall'Avieni quindi caro vice sindaco non mi chiedere di ringraziare la violenza lo avrei fatto o avrei scoperto assolutamente siamo e non si siamo stati forti quando ci siamo messi tutti assieme e questa la nostra arma vincente perché ve l'ho detto sempre assieme quando è natura la candidatura di Rocco e di Inetto Minori abbiamo vinto ve l'ho detto l'avevo detto in campagna elettorale siamo riusciti a resistere e oggi ve lo dico abbiamo messo in atto la rivoluzione per la rinascita meritese dobbiamo solo resistere siamo capaci e resisteremo perché io ho la testa più dura di Cicci voi non siete da me no? noi porteremo merito là dove il nostro cuore che è vicino ai nostri vicino a chi vuole una merito pulita una merito lenta una merito che dà speranza ai nostri figli noi tutti assieme da stasera danni a parte perché quello che ho subito signori difficilmente lo dimenticherò difficilmente lo potranno dimenticare i miei genitori i miei familiari tutti i miei parenti perché vedete per quanti puliti si possa essere se viene purata tutta la farina addosso qualcuno della minoranza è specialista in queste cose ha una tradizione alle spalle io non vi dimenticate ciò da ricordarlo quello che ho subito quando ero assessore dei lavori pubblici nell'aggiunta tripoli non lo voglio citare non lo voglio citare però la storia fa parte del primo dei tre tempi e il tempo passato come ho detto stamattina e il passato ci deve servire per far tesoro degli errori o delle esperienze che ci possono migliorare il presente è l'alto di tempo e noi lo spendiamo con la presunzione di dire che ogni giorno ricordiamo al sapere che ogni giorno ci vogliamo migliorare che ogni giorno vogliamo dare sempre di più che ogni giorno vogliamo spendere sempre di più quel vicino di speranza che dobbiamo dare ai nostri figli il futuro il futuro non è una certezza il futuro è quella speranza che io per il vostro tramite voglio augurare a tutti quanti che sia migliore che sia più sereno che sia più vivibile che sia in un clima di pace che sia in un clima non di guerra di tutti controverte minuti perché la verità è questa noi oggi abbiamo vinto le elezioni ma le abbiamo vinti per un soffio 105 voti quindi abbiamo dall'altra parte la stessa percentuale di cittadini che non ci ha votato e a questi dobbiamo sommare quelli della terza lista quindi la percentuale di gente che non ci ha votato è la maggioranza però noi oggi abbiamo la maggioranza del poco di merito che è con noi è questo che ci manda io stamattina ho dato il mio impegno a Don Mara gli ho detto Don Mara noi la mano l'abbiamo tesa l'abbiamo sempre lasciata tesa in questi sette mesi ma non solo ci hanno girato le spalle senza tendere la mano hanno sempre sparato a zero su di noi ci stiamo stancando non è detto che questa mano per l'attesa è l'eterno il perdono si ma a condizione anche se è un vero cristiano sotto il periodo di Natale dovrebbe dire il perdono è assoluto perché dico queste cose per dirvi il culo perché l'ho fatta abbastanza lungo i danni riprescono io ho pensato più volte di rimetterli subito dopo la sentenza ho parlato stesso con papà con i miei fratelli con mia mamma lui ha detto ma non è praticabile questa strada una volta dopo la sentenza e chiudiamo chiudiamo questa esperienza da vincitori no chiudendo noi la parte dell'eterno questa volta per cui ci siamo spesi e per cui abbiamo ricevuto l'affetto l'abbraccio la stima di Bruno di Diretto di Paolo di Maria di Degno di Maria di Lavenza di Dino e di Fabiana abbiamo coinvolto in questo progetto Gente Sega come Donatella Pammisani che ringrazio di Lillo Emma Lillo qualcuno va bene è chiaro che mi riferisco e anche ai candidati consiglieri che non sono stati eletti io ho un invito alla collaborazione starci vicini perché non è passata la tempesta caro Mimmo caro Patrizio Rocco Fabiana e tutti non tutti la tempesta non è passata è difficile ingoiare questo rosco qualcuno dice non gli è andata giù è la verità una mala verità è loro che erano abituati a stare sempre dall'altra parte perché vedete quando dicono che siamo inetti che siamo occupati di interesse personale io chiedo un suo atto che va verso un indirizzo personale uno 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 io mi è sfuggita qualcosa mi ruppo un attimo ancora di pazienza forse non c'è nessun tecnico a merito che come me o pochi sono come me che possono dire di non aver mai avuto un incarico pubblico nella loro vita nel circondario perché io oggi ho avuto un incarico per sotteggio e con buonanima di Parco Matà come giovane progettista appena laureato nel 1996 e poi sono spero di sentirmi dire che ho e che devo pagare per amicizia per parentele scomode perché vedete la verità che non viene detta ma che è verità è che sia un cugino che è stato arrestato ma dall'altra parte il cugino che è stato arrestato è il figlio del fratello di papà ma il figlio della sorella del papà sta sopra la testa del capitano dei carabinieri così ho detto l'altra serie ovvero ancora nel piano sopra Franco Consolato figlio di Meduieri il fratello di Franco Consolato Franco Giovanni il finanziere il figlio dell'altro fratello del papà è Meduio Giuseppe mio moro quello che è il figlio diversamente abile che ha detto il maresciallo e continuo c'è Mimmo Piponi c'è Mimmo Iaria c'è Antonio Neno quindi la partita finisce 7 a 1 se andiamo a eliminazione è 6 a 0 6 a 0 è una partita da tennis così la corromiamo un po' quindi nulla di cui vergognarmi assolutamente oggi qualcuno mi chiede se avrei pensato mai se avessi pensato mai di subire quello che ho subito no assolutamente no era fuori da ogni più rosa delle previsioni o della regione delle previsioni non pensavo mai di subire e di far subire perché non mi preoccupa quello che ho subito io mi spaventa quello che hanno subito le persone vicine a me i miei figli i miei mogli i miei genitori i miei fratelli i miei amici i miei parenti perché noi al contrario di altri di tanti non riusciamo a portare dietro le spalle nulla io vi invito invito anche i consiglieri di maggioranza di minoranza che non ci sono vi do tutti quanti il 22 segretario abbiamo già parlato vi do i vigili lo farà il comandante l'ho già detto il comandante in stazione carabiniera il comandante della forestale tutti assieme il 22 alle 12 del 30 ci faremo ogni agosto di Natale in questa sala con un augurio di cuore per chi magari mi sarà assente che sia un Natale di pace di serenità di tanta salute e di tanto benessere ma già basta la pace e la salute un auguro veramente di cuore affinché tutta merito tutta la legge tutto il mondo possa ritrovare nel santo Natale la serenità la gioia di vivere la tranquillità e la salute di cui tutti quanti abbiamo tanto tanto bisogno grazie grazie possiamo qui da questo punto chiudere la serenità grazie a tutti 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 grazie a tutti